Il progetto di interramento del tracciato ferroviario Roma-Pescara nel centro urbano di San Buceto si deve fare. Lo ha ribadito anche oggi il sindaco Giorgio Di Clemente, il quale attende il dibattito pubblico in occasione del quale si parlerà della tratta che interessa il comune di San Giovanni Teatino. Il primo cittadino oggi partecipa a Pescara anche alla presentazione della relazione conclusiva del dibattito pubblico sul progetto di raddoppio della tratta Manopello Scafa ed è fiducioso che RFI confermi quanto promesso. Di Clemente il 22 marzo scorso aveva dato vita ad una manifestazione di protesta e si era incatenato al passaggio a livello di San Buceto per chiedere la modifica al progetto. Ci sono stati vari incontri telefonici anche di persona con l'ingegnere Macello che ringrazio dell'impegno che ci sta mettendo su questa progettualità e su quest'opera. Abbiamo aperto un confronto con il nostro tecnico, l'ingegnere Ivo Vanzi, il docente Ivo Vanzi, che si sta confrontando con i tecnici di RFI per portare avanti una nuova progettualità che riguarda l'interramento e tante altre variazioni sul progetto stesso. Un progetto che darebbe veramente una sicurezza a quest'opera e non rovinerebbe il nostro territorio. Quindi benvenga questo continuo confronto, sto aspettando il dibattito pubblico che dovrebbe iniziare a giorni e da lì inizierà questo confronto che spero sia fruttifero. Oggi c'è il risultato di chiusura del dibattito dell'altra tratta, anche se non è la nostra tratta interessata. Sono curioso e nel suo tempo voglio ascoltare e in base a quello che lo sviluppo già di questa tratta penso che sarà anche un seguire la nostra tratta. C'è quello di vedere se siamo ascoltati oppure no, perché io sono fiducioso, ripeto, e mi auguro che non sia soltanto un discorso dall'alto, ma che sia un discorso veramente territoriale, un discorso che guardi il territorio.